Ed ora ci colleghiamo con gli studi di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, lo vedete. Ciao Fabio, tanti ospiti anche questa sera. Guarda che ti aspetto io, devi venire qua, ospita anche tu. Bene, vengo presto, presto. Grazie a te e a tutti gli spettatori del TVG1. Guarda, questa sera abbiamo una puntata davvero imperdibile, qui c'è grande fermento perché tutti aspettano Valentino Rossi, che è arrivato, abbiamo chiacchierato prima in camerino, gli ho dato alcuni consigli e lui non li ha accettati giustamente, quindi le cose andano benissimo. Questa sera avremo poi il professore Enrico Letta per parlare del presente e come abbiamo annunciato nella giornata della memoria, avremo due sorelle, Andra e Tatiana Bucci, che allora erano fra le bambine, fra i bambini di Auschwitz, avevano 5 e 7 anni, in quel momento orribile della nostra storia. Il loro racconto è un racconto doveroso che dobbiamo ascoltare. Poi abbiamo Alice Merton, Marco Travaglio, Luciano Litizzetto, Vino Frassica, Salvo Sottile, un tavolo molto allegro. Tutto questo dopo il Tg1, grazie. Grazie a Fabio Fazio, sono le 20 e 32 minuti e 10 secondi.